Ciao maestro, mi appassiona il tuo progetto Angus Day e mi richiama alla memoria Hey Hey My Rock'n'Roll Can Never Die dell'immenso Neil, complimentissimi per il tuo stile di vita. A proposito, ho visto Alan Sorrenti in tv, ti ricordi Aria è come un vecchio incensiere? Come si fa da collaborazioni con Peter Emmyl e Van der Graaff a Figli delle Stelle? Un abbraccio Corrado. Corrado è quando mancano le palle nella vita, che succede quella cosa lì? Quando manca la dignità, quando manca la passione, quando cominci a pensare che la musica diventa un mezzo per far soldi e allora sei fottuto. A proposito...